Siamo con il presidente del Corigliano Schiavonea Cosimo Elia, la squadra in netta ripresa, sette giorni fa la bella vittoria contro la Paolana di fronte a un pubblico entusiasta, ora un pari a Praia in rimonta in dieci uomini, passati in svantaggio dopo il gol di Andrea Forte è arrivata la reazione di orgoglio di questa squadra, è spulso la Panese ma i biancazzorri si sono rituffati in avanti e hanno agguantato il pari con un'ottima giocata di Gargiullo. Allora Presidente, sicuramente entusiasmo per questo punto, però lascia un po' l'amaro in bocca anche la condotta arbitrale. Sì, diciamo che sabato abbiamo avuto un arbitro che lui ci ha detto a noi che non ha ragionato ma mi sembra che forse non ha ragionato per lui, perché già dall'inizio subito come si è presentato e l'arbitro si è rivolto verso la banchina di stare tutto quanto seduti e ci ha raccomodato di non alzarsi perché oggi non è ragionata per noi e dovevamo stare zitti. Noi all'inizio abbiamo accettato la sua cosa, però ci sono stati dei fuorigiocchi che sono stati fiscati su Gigi che sinceramente erano avendo uno scandalo. Poi non diciamo per quanto riguarda come è andato il prossimo della partita. Comunque io quello che dico è che praticamente se noi dobbiamo giocare contro il San Luce, l'Irogeano, prefisco di giocare a cartipari. Cioè io ho fatto degli acquisti come Gigi Porco e Lappanese e già mi manca un giocatore come Lappanese. Per di più mi manca pure Domenica a Picella. Finita la partita il signor arbitro mi entra nei spogliatori e mi va a munire ancora un ragazzo, il 94. Tant'è vero che ci ha fatto giocare in 10, abbiamo subito il gol e poi dopo abbiamo pareggiato con il Gargiullo che è un ragazzo loro secondo me che potrebbe giocare molto di più e poi c'è tutto un giocatore loro. Si è rivolto verso il 5 del Praia dicendoci che purtroppo non ci poteva fare nulla anche se loro due si capivano e quindi purtroppo abbiamo pareggiato. Cioè se io ogni domenica dovrei giocare, devo stare tanto dagli altri perché pur la domenica successiva c'è una squadra dove mi fanno giocare con dei giocatori in meno, tipo come la Presia, 50 centimili hanno dato il pallone e non hanno dato la partita vinta, il punto che noi abbiamo messo per strada, questo ce la dice lungo per il fatto arbitraggio. Noi abbiamo visto molte volte il Presidente Elia parlare dopo le sconfitte anche con grande sportività, questa volta lo notiamo un po' rammaricato, comunque voltiamo pagina, speriamo che possa essere stata solo una giornata negativa di un esponente della classe arbitrale, noi naturalmente come sportivi crediamo sempre nella buona fede di tutti i partecipanti a questi eventi che comunque ricordiamolo fanno parte del dilettantismo, ma Presidente questa squadra ha una nuova energia, lei ha parlato di Gigi Porco, di Diego Lappanese, ma abbiamo comunque il rosa, giocatori di categoria, tra una giornata rientrerà anche Bonparola, questo Corigliano Schiavonea ha una dirigenza sempre più allargata, un tifo che la segue costantemente in casa e fuori, questa squadra quali sono gli obiettivi? L'obiettivo nostro innanzitutto è di fare un buon campionato, ce la stiamo mettendo tutto per tant'è vera che abbiamo preso dei due giocatori come Porco e Gigi, Lappanese perché vogliamo dimostrare che noi siamo il Corigliano e quindi vogliamo far di tutto per andare più in alto possibile, se ci danno la possibilità, noi tant'è vera che domenica scorsa quando abbiamo giocato con la Paolano gli abbiamo offerto anche i pasticcini agli altri, appunto per fargli capire che da noi possono stare tranquilli, non vengono né minacciati e noi vogliamo fare un tifo, noi vogliamo soltanto le cose giuste, io per domenica farò meglio due televisioni private, così vediamo un pochettino anche a livello di arbitraggio contro il San Lucido se giochiamo onestamente noi o giocano onestamente gli altri. Per quello che riguarda proprio per concludere questo nostro appuntamento, lei parlava di fuori gioco un po' dubbi, effettivamente visto che eravamo presenti allo stadio c'è stata qualche decisione arbitrale da contestare specie ad inizio gara, Porco che partiva sistematicamente sul filo del fuorigioco anche dietro i difensori e avversari e veniva sistematicamente bloccato, questa non è solo una sua interpretazione ma ci sono più testimonianze di queste sfavorevoli combinazioni. Sì, tanto è vero che me l'hanno detta anche la dirigenza del Praia, ma non è questo, il fatto anche su Gigi Pochi quando l'unica volta che veramente era da un metro che non era il fuorigioco è partito, l'altra Budicolagide che l'ha atterrato il portiere fuori aria ci ha dato il cartellino giallo perché ha detto che c'erano altri giocatori che potevano coprire la porta, non era vero per niente perché era solo il portiere se non l'aveva atterrato, avevano fatto il dono e gli ha dato il cartellino giallo, lì si veste proprio la malafete dell'albero. Vogliamo a questo punto invitare comunque gli sportivi all'incontro di cartello con la nuova capolista di questo campionato, ossia il San Lucido, quindi domenica tutti allo stadio alle 14.30 per una giornata di sport innanzitutto, poi speriamo in una grandissima partita e da parte del Corigliano Schiavonea grande sportività ed ospitalità ovviamente. Sì, allora noi invitiamo tutti quanti alle 14.30 domenica allo stadio, innanzitutto voglio oltre ringraziare i schizzati che vengono allo stadio, di stare un po' più tranquilli di non buttarmi fumo cingano perché se no fa frega il prossimo anno per scrivere il Corigliano ci vogliono solo 5.000 euro di multa e più di iscrizione, quindi dimostriamo che noi siamo persone, siamo persone civili, non c'è bisogno di dimostrare, ma essere più coerenti e essere più uniti e dimostrare sia agli ambiti, ai commissari, alle altre società che vengano giocate a noi, che possono giocarsi tranquillamente e ti fare per la propria squadra del Corigliano Schiavonea. Grazie a tutti.